Negli ultimi giorni in rete circolano voci su un possibile allontanamento di Tina voluto da parte della padrona di casa Maria De Filippi. La cosa non stupirebbe dato che qualche giorno fa Maria ha cacciato la corteggiatrice del parterrover Pinuccia per un comportamento ossessivo nei confronti di Alessandro, il signore con cui si frequentava. Ora in rete circolano teorie che giustificherebbero l'assenza di Tina. L'opinionista dovrebbe essere assente a causa di un'indisposizione fisica. Nulla di grave, solo un piccolo ostacolo di salute che la sta tenendo a casa in questi giorni. La sua assenza non si dovrebbe prolungare per molto e Tina dovrebbe tornare in studio a brevissimo. Cosa ne pensate al riguardo? Scrivetemelo giù nei commenti.